Alle 13.40 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Boston a Padova in direzione Bologna per un'auto finita contro la colonina di un distributore di carburante, probabilmente a causa di un malore del conducente rimasto ferito. I pompieri, accorsi con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza l'auto per poi rimuoverla dall'impianto di distribuzione rimasto danneggiato. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni sono terminate dopo circa due ore.